Assomarmo organizza corsi di formazione in ambito di area certificazioni UNI-EN Patentino saldatura UNI-EN ISO 960601 Certificazione impresa F-Gas Certificazione energetica degli edifici UNI-TS 11-334 Patentino F-Gas 303-08 Certificazione impresa F-Gas per autoriparatori 307-2008 Corso frigorista industriale Corso conduttore di generatori a vapore Addetto ai controlli non distruttivi UNI-ISO 97-12-2012 Per info e contatti Federico Greco, Presidente Nazionale Assomarmo 349-6142-305 Info-assomarmo.org Presidenza chiocciolassomarmo.org